Vediamo la ricerca tramite il Mesh. La ricerca tramite il Mesh, il Medical Subject Headings di PubMed, permette di fare una ricerca specifica, dove i risultati saranno pertinenti, visto che si usano termini controllati dai curatori della banca dati stessa. La ricerca tramite il Mesh è possibile, ma non è particolarmente agevole. Vediamo come fare. Si può fare in due modi. Se si conosce già il Mesh da utilizzare, si può usare la ricerca multicampo, scegliendo il campo Mesh Subject Headings. Cerchiamo ad esempio l'EDEMA. Sappiamo che il termine EDEMA è un termine Mesh. Scrivo quindi EDEMA lasciando selezionato il campo Mesh Subject Headings. Troviamo nove risultati. Se non si conosce il Mesh da utilizzare, lo si può cercare utilizzando la funzione Search Tools. Cerco il termine che penso possa andar bene nell'albero, in inglese tree. Cerchiamo ad esempio le medicazioni. La traduzione da vocabolario di medicazioni è dressings. Scrivo il termine. Lancio la ricerca. Viene trovato il termine Bandages. Posso selezionare la I per vedere i dettagli. Trovo la definizione e i sinonimi. Torno indietro. Posso cercare solo il termine Bandages, lasciando la spunta che ho già selezionato. Oppure esplodere il termine, cercando anche i termini sottostanti più specifici. Seleziono EXPLODE. Vado in alto alla pagina e seleziono CONTINUE. Ecco i 12 risultati.